Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo il nostro telegiornale parlando oggi di disoccupazione. Oggi in Commissione regionale infatti sono arrivate raccomandazioni della Comunità Europea per il contrasto alla disoccupazione di lungo corso. E' una sperimentazione in 5 comuni abruzzesi del reddito minimo garantito. Filippo Tronca. L'Abruzzo per essere regione d'Europa deve fare di più per i disoccupati di lungo corso che sono più della metà dei senza lavoro, spesso in un'età anagrafica in cui è molto difficile ricollocarsi. A dirlo non sono i sindacati e la Commissione europea che il 17 settembre ha inviato una nota a tutte le regioni, in Abruzzo compreso, ricordando che la disoccupazione di lungo corso è stata individuata dal Parlamento europeo nell'ambito della strategia Europa 2020 come uno dei principali ostacoli alla crescita. Chiedendo insomma di destinare alla soluzione di questo problema più fondi nell'ambito dei programmi europei e incrementare la formazione e le politiche di reinserimento. Oggi la comunicazione è stata esaminata dalla quarta Commissione consigliare della Regione. A nostro microfono il Presidente Luciano Monticelli. E' una risoluzione che portiamo in quanto sulle prossime future tavoli che ci saranno tra il Governo centrale e la Regione Abruzzo che ha di competenza i servizi per l'impiego dovranno attuarsi delle politiche giuste, io considero, che guardino con chi ha una lunga percorrenza di fattore non lavorativo. Questo perché genera problematiche all'interno della persona, della famiglia ha dei costi sociali e sanitari anche alti. Quindi massima attenzione anche sulla programmazione europea e sui fondi che noi siamo destinati con l'FSE e di destinare una quota particolare impegnativa. Va nella stessa direzione la proposta di legge regionale, anch'essa all'esame delle commissioni, che intende sperimentare il reddito minimo garantito da 600 euro circa al mese nei comuni di Bussi, Sul Tirino, Cassiglione, Casauria, Letto, Manopello, Manopello e Tocco da Casauria in provincia di Pescara. E' una richiesta fatta da cinque comuni. La Costituzione italiana riconosce che i comuni possono fare i provvedimenti di legge chiedere alla regione Abruzzo, in questo caso, del reddito minimo garantito. La proposta di questi cinque comuni qual è? E' quello di dare un contributo intorno alle 609 euro al mese, che hanno dei requisiti naturalmente, che non abbiano reddito. Poi ci sono delle varie scaglioni che se dovesse capitare, nel cui c'è un lavoratore che lavora, una famiglia, ci sono degli accorgimenti. Si spacca il gruppo consigliare all'emiciclo di Abruzzo Civico, i particolari nel servizio. Clamoroso all'emiciclo. I consiglieri regionali di Abruzzo Civico, Mario Olivieri e Andrea Gerosolimo, escono da Abruzzo Civico, assieme al coordinatore regionale Giulio Borrelli, perché oramai argomentano che la lista civica, nata a sostegno del presidente Luciano D'Alfonso, è monopolizzata nel suo direttivo dalla componente di scelta civica, a cominciare dal presidente l'onorevole Giulio Sottanelli. Un corpo estraneo, conferma i nostri microfoni Olivieri, e inizia per noi una fase 2. E conferma a Olivieri l'imminente ingresso nel gruppo consigliare, che cambierà nome, di o almeno un altro consigliere. Olivieri tiene la bocca cucita, ma dovrebbe trattarsi di Maurizio Di Nicola, centro democratico, presidente della prima commissione bilancio. Adesso Abruzzo Civico, per quanto ci riguarda, per il gruppo regionale, quindi parlo di Olivieri Gerosolimo, si sono dichiarati attraverso una conferenza stampa fuori da Abruzzo Civico, per appunto dei dissapori con la direzione. Nascerà quindi una nuova formazione? Abbiamo una nuova formazione, avremo una nuova realtà in regione Abruzzo, che può darsi che si rafforzi, abbiamo già delle trattative in corso. Il consigliere Di Nicola. Alcuni consiglieri regionali. Quindi più di uno. Può darsi che ne fossero anche più di una, c'è questa possibilità. Adesso è ancora presto parlarne, perché siamo in fase evolutiva. Quindi probabilmente, ma noi siamo già fuori, cioè Olivieri Gerosolimo sono già fuori Abruzzo Civico e superato. Stiamo lavorando, abbiamo avviato un percorso che va oltre Abruzzo Civico. Abruzzo Civico fase 2 o qualcosa del genere. Possiamo ora a Pescara, dopo quattro giorni di proteste, i lavoratori interinali di Attiva denunciano l'indifferenza delle istituzioni, avviano una raccolta firme per ottenere sostegno dalla cittadinanza. Nel frattempo è stato chiesto un incontro con i capigruppo e con il prefetto di Pescara, Francesca Romanatesti. La protesta è iniziata sabato mattina, dopo che non c'è stato l'accordo che tanto si era sperato per i lavoratori interinali di Attiva. Da questa mattina si è dato avvio a una raccolta firme. In realtà sono già state superate le 200 firme e un'altra caratteristica è chi ha firmato. Qui hanno firmato oltre al cittadino di passaggio, sono venuti a firmare politici destra, sinistra, tutti insomma. Possiamo vedere dei nomi che ci sono scritti. Hanno firmato tutti quanti, stanno iniziando a sensibilizzare un po' tutti. O è una facciata, lo fanno per far vedere o veramente credono a noi ma nessuno lo può dire. Ecco questa è una raccolta firme ma visto che si va ad oltranza con lo sciopro ricordiamo che voi dormite esattamente qua davanti al comune da diversi giorni. Cosa serve per cercare di mettere fine anche a questo sciopro e soprattutto a questa manifestazione perché ovviamente passano i giorni ma ci si attende qualcosa? Eh sì, il nostro posto di lavoro, quello per cui abbiamo studiato da 8 anni al 31 di dicembre. Ma dall'avvio della protesta non avete più avuto notizia da parte delle istituzioni? Alcuni sono venuti ma sono venuti a fare solo il comizio e le fotografie sotto gli strigioni. Per il resto non ci hanno detto niente. Noi abbiamo fatto la richiesta esplicita che i politici di là del marciapiede devono venire solo con fatti concreti alla mano. Da parte loro non c'è stato nessun segnale di avvicinamento nei nostri confronti. Noi siamo andati, noi a nome della nostra associazione creata lì dentro quella tenda, siamo andati dal presidente, da Blasiole, siamo andati a chiedere un incontro con i capogruppi per oggi. Adesso, in questo momento stanno facendo l'incontro per vedere se si è mosso qualcosa. Abbiamo chiesto l'incontro col prefetto e dovrebbero far sapere tra oggi e domani quando ci accoglierà e niente, noi siamo ancora molto, siamo molto, ci hanno deluso perché per la Pescara Calcio si sono fatti vedere regione e vari pezzi forti. Per noi niente, perché la Pescara Calcio vuol dire che è più importante di 70 patri di famiglia che stanno a dormire in quella tenda da sabato. Ha avviato il suo mandato due giorni fa, lo scorso 11 di gennaio, il nuovo prefetto di Pescara, Francesco Provolo, ai nostri microfoni ha annunciato le sue priorità, lavoro, sicurezza e monitoraggio del territorio. Ascoltiamolo. Originario di Ottaviano, 62 anni, tre figli, una laurea in giurisprudenza e una carriera avviata nel 1987. Il nuovo prefetto di Pescara è Francesco Provolo, il suo mandato ha preso avvio l'11 gennaio. Conosce bene l'Abruzzo, è stato infatti vice prefetto, vicario all'Aquila. Conosce anche Pescara perché ha già molto chiare le sue priorità, la sicurezza negli edifici, il confronto con sindacati e cittadini e la questione della sicurezza sul territorio. Le statistiche non aiutano alla percezione sulla sicurezza. Si tratta di capire che cosa significa quel dato e affrontare poi la realtà precisa del momento. E' vero, quest'ora di stamattina, è la seconda volta dell'incontro da quando sono venuto qui, nel giro di due giorni, dai venerdati so che i furti e tutti i reati sono diminuiti. Una particolare attenzione il nuovo prefetto la punta sulla sicurezza dei lavoratori. Il motivo si ritrova nella cronaca, quando infatti ricopriva il ruolo di vice prefetto vicario presso la prefettura di Caserta, cinque uomini persero la vita in fabbrica, un fatto che lui stesso ricorda con dolore. Sicurezza sui luoghi di lavoro, sì, è una cosa che seguirò con molta attenzione anche in provincia di Pescara perché ritengo che sia un argomento molto importante da affrontare e capire se anche in provincia di Pescara c'è bisogno di un'attività molto più precisa e puntuale. Sentirò i sindacati su questo nei prossimi giorni. Infine la questione della sicurezza percepita. Tra i primissimi incontri istituzionali c'è stato anche quello con il questore di Pescara, Paolo Passamonti. Affronteremo questo problema. Nel minimi particolari, nel prossimo comitato per l'ordine di sicurezza pubblica, vedremo un attimino che cosa è stato fatto, positivo perché i numeri sono scesi, e cosa possiamo fare di più per dare anche una maggiore sicurezza di percezione della sicurezza della scala con le attività. La cosa che l'ha colpita di più della città di Pescara qual è stata? La sua bellezza. E tra la cronaca, a distanza di oltre un mese, ha deciso di denunciare i carabinieri di casa al bordino il convivente, un agricoltore romeno di 50 anni, arrestato per le accuse di lesioni gravi e maltrattamenti in famiglia. Protagonista della vicenda, una romena di 46 anni, ridotta in fin di vita e ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Vasto per aver riportato un trauma cranico, la frattura dell'osso occipitale e diverse emorragie interne. A chiedere l'intervento dei soccorsi lo scorso 2 dicembre era stato lo stesso compagno che aveva raccontato ai carabinieri di averla rinvenuta in quelle condizioni sul letto coniugale al ritorno dai campi nella loro abitazione in una frazione di casa al bordino. E la lunga e dolorosa vicenda del crack di Banca Tercas è arrivata oggi a un punto fermo. Infatti si è aperto il processo davanti al Tribunale di Roma. Ma a giudizio 14 persone, tra i quali l'ex direttore generale Antonio Di Marco e l'ex presidente Lino Nisi. Alvia oggi al Tribunale di Roma la prima udienza per accertare le responsabilità del crack della Banca Tercas in cui centinaia di risparmiatori hanno perso tutto dopo l'azzeramento delle azioni dell'Istituto di Credito. L'imputato principale è l'ex direttore generale Antonio Di Matteo che secondo gli inquirenti sarebbe responsabile della gestione di Senata che ha portato la banca al tracollo finanziario con oltre 600 milioni di perdite. L'altro imputato illustre è l'ex presidente Lino Nisi che, al contrario dell'ex DG che deve rispondere di diversi reati, è accusato soltanto dell'accusa di ostacolo alla vigilanza. Per gli inquirenti infatti Nisi non avrebbe avuto una responsabilità diretta nel crack. Secondo la procura romana avrebbe esposto fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Tercas, occultando fatti che avrebbe dovuto comunicare alla Banca d'Italia, in particolare circa il tentativo della Tercas di comprare la SMIB, la Banca di San Marino e la situazione patrimoniale della Tercas in vista dell'acquisizione della Caripe. Nel corso dell'udienza preliminare i difensori di Nisi hanno battuto soprattutto su un tasto. L'operazione SMIB era stata gestita da Di Matteo che non ne aveva informato per tempo il presidente. Al GUP di Roma questa spiegazione non è bastata, vedremo cosa decideranno i giudici nel dibattimento. Oltre a Di Matteo e Nisi, gli altri 12 imputati, Cinzia Ciampani, Gianpiero Samorì, Francesco Antonio Di Stefano, Raffaele Di Mario, Lucio Giulio Capasso, Paola Ronzio, Pierino Isoldi, Vittorio Casale, Gilberto Sacrati, Cosimo De Rosa, Saverio Signori, Pancrazio Natali, devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere, aggravata dalla transnazionalità, appropriazione in debita, ostacolo alle funzioni di vigilanza, bancarotta fraudolenta e riciclaggio. In particolare avrebbero partecipato all'associazione attuando alcune operazioni di cosiddetto portage, cioè la vendita di azioni proprie della Tercas da parte della stessa banca, che si impegna a riacquistarle e beneficiando di cospicui finanziamenti erogati in assenza dei presupposti di affidabilità. Nell'udienza odierna non è escluso che gli avvocati della difesa sollevino eccezioni sulla competenza territoriale già presentata e respinta dal gruppo di Roma, ma che se in questa sede dovessero essere accolte, vedrebbero il trasferimento degli atti del processo alla procura di Teramo e l'inchiesta potrebbe ripartire da zero. Incontro a Roma tra i rappresentanti del Comitato dei Risparmiatori di Banca Etruria di Pizzoli e di Vertici della Consob, i cittadini chiedono il rimborso integrale dei risparmi e delle obbligazioni andate in fumo dopo il decreto salva banche del governo. Daniela Rosone. Sensibilizzare il sistema bancario affinché si faccia promotore di atti di rimborso volontari ai risparmiatori da non considerarsi agli utili Stato, è la richiesta fatta ieri a Roma dal Comitato dei Risparmiatori di Pizzoli di Banca Etruria. Nel popoloso comune dell'Aquilano, infatti, sono più di mille risparmiatori che per effetto del decreto salva banche sono rimasti senza soldi. A Roma, il portavoce dei risparmiatori di Pizzoli, Domenico Iannucci, ha incontrato il direttore generale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Consob, Angelo Poni, e il segretario generale Guido Stazzi, a margine della piccola protesta alla quale hanno partecipato centinaia di cittadini truffati. Il sistema bancario per Iannucci deve farsi carico dei rimborsi perché per loro si tratta di piccole cifre, per la gente invece sono i risparmi di una vita. I risparmiatori hanno parlato di truffa anche relativamente alle ultime obbligazioni del 2013 perché hanno detto che se c'erano problemi la banca doveva essere corretta e dunque è mancata anche la comunicazione. Ed è molto probabilmente la prima volta in Italia che un ricercatore e uno scienziato venga processato per aver ucciso centinaia di cavie da laboratorio soppresse con l'utilizzo di gas. Al Tribunale di Lanciano è iniziato ieri il processo al direttore del Mario Negri Sud. Si è aperto ieri a Lanciano il primo processo per uccisione di cavie da laboratorio topi uccisi con l'utilizzo del gas. Sul banco degli imputati la filiale sud dell'Istituto Mario Negri a Santa Maria in Baro che in previsione della sua chiusura nel marzo 2014 aveva abbattuto su consiglio della divisione veterinaria 750 arroditori utilizzando il gas. Ci aspettiamo sia fatta giustizia applicata la legge che da 11 anni dice che non si possono uccidere animali se non espressamente previsto. Lo ha detto al Tribunale di Lanciano Gianluca Felicetti, presidente nazionale LAV tra i primi testi d'accusa del processo iniziato dinanzi al giudice monocratico Andrea Belli. Che cosa vi attendete da questo processo? Una condanna non solo per chi ha autorizzato ma anche per gli esecutori immateriali di questa strage. E poi anche un insegnamento rispetto al territorio, alla politica di questo territorio che ha sostenuto l'apertura di una cattedrale nel deserto che seppur collegata, questo lo sottolineo, al ben più famoso Istituto Mario Negri di Milano che è un centro di livello mondiale si era basato esclusivamente sui contributi pubblici per vivere o negli ultimi anni sopravvivere. Imputato è l'allora direttore amministrativo Tommaso Pagliani, biologo di San Vito Chietino presuntivamente accusato di uccisione senza necessità di animali. Questa la difesa dell'avvocato. La soppressione di questi animali, il cui utilizzo è fatto nell'interesse della vita dell'uomo è stata eseguita nel rispetto della legge e per una necessità che derivava dalle condizioni economiche della Mario Negri Sud dove non c'erano più soldi per fare niente, neanche per mantenere lo stabulario lo stabulario è la gabbia dove sono gli animali che costa costa per riscaldamento, costa per la luce, costa per il personale, costa per il cibo molti animali sono stati trasferiti in altri centri di ricerca altri erano già pronti per partire in un centro di accoglienza per quello che era possibile che è la collina di Ciliegie a Milano altri non potevano che essere soppressi, non c'era alternativa. Nel corso dell'inchiesta, nell'agosto 2014, il procuratore Francesco Menditto fece sequestrare 57 topi, primo caso in Italia, ancora presenti negli stabulari il processo avrà ora diverse udienze prima della sentenza Daniela Stati è assessore alla viabilità del comune di Avezzano ed ex assessore regionale alla protezione civile è stata rinviata a giudizio dalla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Avezzano, Francesca Proietti, con l'accusa di corruzione il processo davanti ai giudici del Tribunale collegiale di Avezzano si celebrerà il 15 dicembre prossimo dove la Stati comparirà insieme al padre e zio Stati Marco Buzzelli, Vincenzo Angeloni e Sabatino Stornelli anche loro rinviati a giudizio gli stati sono accusati dalla Procura della Repubblica di Avezzano di aver ricevuto presunte regalie da Vincenzo Angeloni e Sabatino Stornelli per compiere atti contrari ai loro doveri d'ufficio e cambiamo argomento Mauro Mattioli, docente di medicina veterinaria ed ex rettore dell'Università di Teramo e il nuovo direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Giuseppe Caporale di Teramo è stato siglato ieri mattina all'Aquila il contratto che dà a Mauro Mattioli l'incarico di nuovo direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Giuseppe Caporale di Teramo Mattioli, modenese di 62 anni, è stato rettore dell'Ateneo Teramano dal 2005 al 2009 eletto prorettore nel 99 e nel 2003 preside delle due facoltà di veterinaria e agraria rispettivamente nel 95 e nel 98 è un'importante scommessa di valorizzazione di un patrimonio già presente che potrà essere notevolmente potenziato se saremo in grado di tutti assieme trovare dei filoni comuni di interazione e di sinergia adesso non resta che cominciare a lavorare e cominciare a parlare di cose serie negative o positive, criticando e anche urlando ma parlare di cose serie, cose concrete Tante erano state le polemiche non ancora del tutto sopite intorno a questa scelta che aveva di fatto rimandato l'ufficialità della nomina di diverse settimane La nomina infatti arriva nonostante la bocciatura ministeriale all'indomani della nota, tecnicamente unendo procedimento rimessa dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della Salute Silvio Borrello in cui si definisce priva di requisiti necessari la designazione dello stesso Mattioli Polemiche non lo so, di commissariamento non c'è al momento commissariamento e l'attività è a questo punto nelle condizioni di poter procedere regolarmente per quel che mi riguarda la squadra di governo è completa la mia disponibilità è la disponibilità di un rettore di università Il governatore Luciano D'Alfonso ha ribadito che il parere ministeriale è consultivo e la prova ne è la nomina firmata ieri mattina i candidati erano 24 ma solo 4 sono risultati in possesso dei requisiti richiesti a un'apposita commissione nominata dalla Regione Abruzzo d'intesa con quella del Molise Comunicare informazioni utili alla popolazione per fronteggiare l'emergenza in caso di calamità naturali è lo scopo del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Abruzzo e Università di Teramo La sicurezza e la vita delle persone in caso di calamità naturali dipende anche da una buona comunicazione soprattutto preventiva che possa supportare l'attività della protezione civile regionale E' con questo spirito che all'Aquila il presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso, il rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico hanno firmato ieri un protocollo d'intesa che al centro ha proprio la redazione da parte dell'Ateneo di un piano di comunicazione utile a informare i cittadini su come fronteggiare un'emergenza ma anche per ottimizzare la comunicazione interna e dunque l'operato del sistema di protezione civile E su questo stiamo lavorando già da molto come Università su impulso della Regione Abruzzo che ha ritenuto di coinvolgere tutti i cittadini in queste situazioni con un'attività di preparazione un'attività di consapevolezza anche dei rischi e poi sottolineerei anche l'aspetto sulla comunicazione interna agli enti preposti ad assicurare la protezione civile e dalla Regione a tutti gli altri enti che intervengono per poter gestire le emergenze con efficacia e salvaguardando al massimo i cittadini Fare in modo che quando si verifica il fatto eccezionale l'ordinamento pubblico venga trovato preparato Su questo noi ci prepariamo, ci dedichiamo facendo sì che mai più veniamo colti di sorpresa anche nella parte comunicativa ma non solo nella comunicazione Noi abbiamo visto per esempio che sul fronte comunicativo la mancanza di adeguatezza ha determinato anche l'intervento del diritto penale giustamente, ha ragione Noi però dobbiamo anche elevare la capacità di reazione quando si verifica un disastro non solo il sistema dell'allerta che è all'altezza oggi noi abbiamo un sistema di organizzazione anche tecnologica che per allertare è quasi alla perfezione Quando però si verifica il fatto drammatico distruttivo di un evento straordinario prima non previsto o non prevedibile che succede? Come riusciamo a fronteggiare? Con quale organizzazione graduata? Ecco questo io lo voglio rendere anche oggetto di specifica formazione Incontro alla regione di Pescara tra il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso l'assessore alla valorizzazione dei beni Marinella Sclocco e i rappresentanti dell'Azu per parlare dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione della Casa dello Studente Il servizio Casa dello Studente a Chieti in questo caso il comune metterà a disposizione due edifici e poi ci servirà qualcuno che lo gestisca ma si chiede alla regione di mettere a disposizione dei fondi Sì, un progetto complesso ma anche molto ben ormai strutturato il comune metterà a disposizione due immobili per oltre 12.000 metri quadrati di disponibilità dove realizzare due case dello studente nel centro storico la regione dovrà finanziare la progettazione e l'Azu avrà il compito l'azienda di diritto allo studio avrà il compito di presentare una richiesta di finanziamento al Ministero dello Sviluppo e della Ricerca perché ci sia la possibilità di recuperare queste due strutture noi siamo molto fiduciosi perché fino ad oggi l'Abruzzo ha perso occasioni nella possibilità di intercettare questi fondi quindi questi fondi ci sono sono fondi regionali cioè nel senso che sono assegnati alle regioni italiane da parte del MIUR noi abbiamo un buon progetto perché integriamo benissimo quella che è la richiesta di recupero di immobili recuperiamo due immobili comunali la richiesta di nuova offerta nella Università di Chieti vi è poca residenza universitaria e soprattutto creiamo un circolo virtuoso tra università, centro storico, trasporto e ovviamente nuova residenza questa operazione importantissima sarà cofinanziata dalla regione con 440 mila euro già messi in bilancio e con il valore proprio dei due immobili perché il Ministero finanzierà il restante 50% perché è importante questa operazione? perché consentirà alla città di Chieti di rivitalizzare il proprio centro storico che oggi non è propriamente vitale e perché consentirà agli studenti che si iscriveranno che si vorranno iscrivere all'Università di Chieti di poter avere di poter godere di una casa dello studente rendendo quindi anche più attrattiva la nostra Università d'Annunzio A Pizzoli, comune a pochi chilometri dall'Aquila esiste un campus universitario ancora da completare che qualcuno vorrebbe destinare a centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo un'ipotesi che però non piace all'amministrazione comunale locale Giorgio Alessandri il comune di Pizzoli dice no al centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo negli spazi inizialmente pensati per realizzare un campus universitario mai completato e in attesa di una destinazione definitiva è una posizione netta quella del sindaco del comune situato a pochi chilometri dall'Aquila Gianni Anastasio che con l'amministrazione sta individuando un percorso per destinare la struttura dove solo due palazzine sono state realizzate nell'immediato post-sisma attraverso una catena di solidarietà e l'impegno di un imprenditore che nel sisma del 2009 perse la figlia universitaria iniziarono i lavori per la costruzione del campus un progetto da 5 milioni di euro che prevedeva la costruzione di diverse palazzine per 139 piccoli appartamenti per un totale di 262 posti letto da destinare a studenti universitari nell'ottobre del 2010 un'inchiesta della procura dell'Aquila bloccò i lavori e anche i 32 studenti che avevano preso possesso dagli alloggi furono costretti a cercare una nuova sistemazione il processo che ne seguì che coinvolse amministratori e tecnici imputati per una serie di reati legati a presunti abusi ambientali edilizzi e violazioni delle norme tecniche si è conclusa a maggio del 2010 con 10 assoluzioni con formula piena da quel momento si è tornati a pensare di cosa farne della struttura i presupposti che portarono all'idea del campus nato nel post terremoto con un'emergenza abitativa per gli studenti universitari da tamponare sembra quasi tramontata qualcuno ha lanciato l'ipotesi di un centro per migranti ma l'idea non sembra essere piaciuta per nulla al sindaco di Pizzoli dove già sono presenti diversi cittadini stranieri giunti proprio con progetti per l'accoglienza potrebbe anche succedere che magari l'intenzione sia quella di utilizzarla per questi profughi diciamo che comunque hanno bisogno di spazi e di ospitalità per quanto ci riguarda io ho già detto in altre situazioni lo ribadisco Pizzoli è saturo perché noi abbiamo già qui più di una situazione che comunque si è venuta a creare negli ultimi mesi e che unita diciamo a tutti gli stranieri che comunque Pizzoli già ospitava ormai superiamo abbondantemente il 10% della popolazione quindi non siamo più in grado di poter tenere sotto controllo anche per una questione di ordine pubblico queste cose Ed ora passiamo alla pagina sportiva si avvicina a grandi passi il ritorno in campo per il Pescara che sabato all'Adriatico Cornacchia affronta il Livorno intanto resta caldo il fronte mercato con i biancazzurri a caccia di rinforzi in difesa Alfredo Primante Dopo aver definito l'arrivo di Daniele Verde il Pescara sul mercato è alla ricerca di un paio di difensori il primo profilo corrisponde a Maurizio Domizzi dell'Udinese il trasferimento del giocatore in Abruzzo si è però complicato nelle ultime ore anche perché da una parte il giocatore non ancora raggiunge l'accordo con la società friulana e dall'altra i dirigenti biancazzurri vogliono ponderare bene la scelta considerando l'esborso economico e anche l'età non più giovanissima del giocatore per questo il Pescara volge lo sguardo anche altrove nei giorni scorsi sarebbe stato sondato il terreno per il trentenne Andrea Coda della Sampdoria e per il ventitrenne islandese del Cesena ma di proprietà della Juventus Magnusson infine i dirigenti pescaresi hanno bussato anche alla porta dell'Atalanta per Cherubin sul fronte cessioni si registra un interessamento della Sarenitana per Andrea Cocco diverse le richieste per il sindaco Marco Sansovini l'ultima in ordine di tempo è quella della SPAL capolista del girone B di Lega Pro intanto la squadra prepara la gara con il Livorno contro i Toscani mancherà lo squalificato Memushai a centrocampo le scelte comunque non mancano già in vendita da due giorni i biglietti della gara dell'Adriatico congelate al momento altre partenze eccellenti come quelle di Mammarella e Marilungo la Virtus si concentra sul mercato senza fare rumore il DS Luca Leone al lavoro per portare in Frentania il portiere del Cagliari Alessio Cragno il punto nel servizio in casa Lanciano si lavora a fare i spenti sul mercato dopo l'arrivo del giovane difensore classe 1999 dal Pescara Samuele Di Matteo che però difficilmente potrà essere un valido rinforzo per D'Aversa il direttore sportivo Frentano Luca Leone lavora all'arrivo di un portiere si tratta di Alessio Cragno attualmente vice di Storari al Cagliari ieri Leone ha incontrato a Cesena l'agente dell'estremo difensore Graziano Battistini per confermargli l'interesse della società rossonera per il suo assistito il giocatore ha dato il suo assenso e questo potrebbe essere un primo passo importante anche perché la società isolana ha capito che tenere in panchina il nazionale Under 21 sarebbe controproducente più utile farlo giocare come potrebbe accadere a Lanciano dove uno fra casadea e aridità però diventerebbe di troppo già la scorsa estate Cragno era stato ad un passo dal Lanciano prima che il Cagliari decidesse di tenerlo in rosa come dodicesimo ma sul mercato la società rossonera potrebbe incontrare difficoltà a trovare giocatori disponibili a trasferirsi in Frentania considerando la difficile situazione di classifica e soprattutto le tante partenze che ad oggi hanno indebolito la rosa intanto mentre le cessioni di Mammarella e Marilungo sono state congelate De Silvestro è vicino al passaggio al Pavia e sabato si torna in campo con la prima giornata di ritorno che vedrà Albiondi di fronte Lanciano in casa biancorossa si tratta di Francesco Forte romano di 22 anni in scuola Inter con un'esperienza appena terminata alla Cremonese con i grigio-rossi quest'anno 14 presenze e 3 reti ma i tifosi dell'Aquila lo ricordano bene e forse speravano di non incontrarlo mai più nel girone B perché Forte la passata stagione ha fatto male davvero molto male e rosso-blu dopo la prima parte di campionato con la maglia del Folri condita da soli due centri infatti col mercato invernale col passaggio alla Lucchese la punta ha ritrovato il feeling con il gol a segno dieci volte il rossonero un po' in tutti i modi di testa col sinistro piede preferito sul rigore di potenza dunque sarà lui mancino dal futuro garantito a dover portare quei gol semplici quelli che tanto sono mancati nelle partite impantanate come quella di sabato pomeriggio col Ponte d'Era trattativa lampo impostata direttamente dal presidente Campitelli salito personalmente con l'intero staff mercato a prendersi l'attaccante la speranza è che come nel 2014 2015 il cambio di casacca possa portargli bene se lo augura Vincenzo Vivarini che potrà schierarlo forse già dalla gara interna di sabato contro l'Ancona forte può adattarsi a cantare e portare la croce giocando come unico riferimento offensivo oppure accanto ad una punta anche fisica come quando vicino aveva il Montenegrino Filip Rajcevic curiosità uno degli obiettivi estivi dei Biancorossi non è arrivato lui è arrivato forte corteggiato anche dall'Ancona il Teramo almeno sul mercato i Dorici dunque li ha battuti ora i tifosi si aspettano il Bissa anche sul campo sperando magari di vedere un Teramo più forte è proprio il caso di dirlo di quello che hanno ammirato finora ed è tutto per questa prima edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna puntuale questa sera alle ore 19 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata grazie per la visione